Eh 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 eh! Ho fregato il canale a Wall-E! Wall-E è convinto di essere tanto furbo e tanto brave, ma gliel'ho fregato! FREGATTO! Chiaro? Bene, chi sono io? Io sono uno degli amichetti immaginari di Wall-E! E sono qui a raccontarvi tutte le bugie che vi sta dicendo e che vi dirà in futuro. Per prima cosa io sono sfocato così non potete assolutamente riconoscermi. Io sono Amel, uno dei suoi tanti amichetti immaginari, ma sono uno dei suoi più cari amichetti immaginari. Lui vi ha accennato che sta scrivendo un libro fantasy, in realtà dovrebbe essere una trilogia, la saga dei primi maghi. Lui vi racconterà che se le sogna di notte queste cose, ma sono tutte bugie, semplicemente perché quella è la storia vera, la mia storia vera, quella che continuo a vivere dall'inizio dei tempi. E' chiaro questo? Quindi prima bugia è che lui se le sogna. No! Gli racconto io le mie storie e le mie avventure. Sappiate che non mi ha chiesto il permesso di scriverle. Per questo motivo gli ho fregato tutti i suoi account e ogni tanto apparirò e pubblicherò su tutti i suoi posti, su tutti i suoi social, quello che voglio. Ok, io sono Amel. Vivo su questa terra e cammino sul terreno da prima che voi scimmie scendeste dagli alberi. E sarò ancora qui quando voi non ci sarete più. Sappiate, fatevi una ragione. Stateci. I primi maghi sono due, mio fratello ed io. Però adesso non vi posso raccontare oltre, altrimenti vi rischio di rovinare tutto il libro. No, non è vero che sia uno spoiler, perché la storia di mio fratello e me, il Wally ve la racconterà nelle prime pagine del primo capitolo. Quindi, più avanti, magari vi racconterò di Amel, che sono io, e Zizif, che è mio fratello. Ed ora, Wally, sei stato fregato e sei stato svergognato davanti a tutti. Ti ho hackerato tutti i tuoi account. Ciao!